Un 47enne di Capo d'Orlando è stato denunciato dalla polizia del commissariato Paladino per approvazione in debita. Si sarebbe appropriato di 160 euro che una coppia ha lasciato nello sportello Bancomat pensando di aver annullato l'operazione. Tutto è successo davanti alle telecamere di sorveglianza della banca. Una coppia di cittadini dello Sri Lanka aveva appena digitato il codice e la cifra che intendeva prelevare, mentre a pochi metri alcune persone hanno iniziato a litigare. Il marito, spaventatosi, chiede alla moglie di andar via. Lei, certa di aver annullato l'operazione, segue il marito ma poco dopo la coppia si accorge che i 160 euro inizialmente richiesti erano stati addebitati. Così decidono di rivolgersi al commissariato di polizia di Capo d'Orlando che, visionando le immagini del sistema di videosorveglianza presente nell'area del Bancomat, ha la conferma di quanto è successo e identifica anche l'uomo che, approfittando del momento di confusione, non ha esitato ad intrascare il denaro. I poliziotti sono quindi riusciti a recuperare la somma sottratta che sarà nei prossimi giorni riconsegnata a legittimi proprietari. E sempre la polizia di Capo d'Orlando sta indagando su un altro grave episodio avvenuto sempre ieri nel comune Paladino. Un uomo di San Fratello ha denunciato di essere stato raggirato con ipnosi. L'anziano era a Capo d'Orlando a fare acquisti quando è stato avvicinato dalla coppia che ha iniziato a parlargli lentamente e poi a toccarlo. Quindi, ormai in balia dei due rapinatori, si è recato in banca ed ha chiesto il prelievo della cassa di 2.700 euro che ha consegnato ai malviventi, i quali lo hanno poi lasciato davanti a una bottega dove l'anziano si è reso conto di quanto era successo ed ha chiesto aiuto. La rapina ha analoghe modalità con altri colpi messi a segno con ipnosi a Capo d'Orlando.